Il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe e la sua famiglia sono stati arrestati e sono al sicuro. È quanto si legge sull'account Twitter del partito di governo ZanoPF, in cui si ribadisce che nello Zimbabwe non è in atto un golpe. Nello Zimbabwe e nello Zano sono di proprietà di Mugabe e di sua molle, si legge ancora su Twitter. Oggi inizia una nuova era e il compagno Mnangawa ci aiuterà ad avere un migliore Zimbabwe. Il vicepresidente Emerson Nangawa, da decenni politicamente vicinissimo a Mugabe, era stato espulso dal governo e dal partito perché accusato di cospirare contro l'autocrate ultranovantenne. Intanto mezzi dell'esercito hanno bloccato l'accesso alle strade all'esterno del Parlamento, dopo che i generali dell'esercito hanno negato di aver promosso un colpo di Stato, ma hanno utilizzato la TV di Stato per minacciare i criminali vicini al presidente Robert Mugabe.